Una situazione preoccupante quella di via Francesco Baracca? Sì, diciamo invivibile, perché fra l'altro è un tratto di strada senza marciapiedi, con molte macchine parcheggiate e molti accumuli di spazzatura. Voi qui ci vivete, quindi naturalmente siete preoccupati? Sì, siamo residenti qui, sì, perché naturalmente i topi fanno da padrone e diciamo è invivibile. Sempre la solita antifona, periferie abbandonate? Eh sì, questa è la situazione in cui versa il rione di Baida. Gli interventi sono praticamente inesistenti e la situazione è quella che vedete voi. È una vergogna perché qua non si può passare, può venire una macchina posteggiata, spazzatura all'infinito. Come voi vedete qua, verde che fanno delle pulizie nei terreni e li vengono a buttare qua in mezzo alla strada. È impossibile, è invivibile, è invivibile questa strada. Abbiamo fatto più di un annunzio al comune di Palermo, abbiamo chiesto a Orlando, diciamo che Orlando dovrebbe fare qualcosa ma non fa niente. Gli interessa soltanto solo via Libertà, via Macqueda e il centro. E noi qua siamo abbandonati, però vuole che paghiamo la spazzatura, vuole che paghiamo i tassi. Dobbiamo pagare tutto, però ad un certo punto ci hanno solo abbandonato. Ora speriamo che cambia qualcosa, ma per noi, perché qua passiamo di qua ed è invivibile. Ancora un'altra denuncia arriva forte e chiaro da parte dei residenti che si sentono del tutto abbandonati e che chiedono semplicemente che vengano rispettati i loro diritti, diritti che pagano a gran prezzo, visto che Palermo è una delle città in cui le tasse sono più alte rispetto a moltissime altre città. È proprio il caso dei residenti di via Francesco Baracca che oggi si sono attrezzati in maniera autonoma. E allora in segno di provocazione sono loro che hanno installato delle telecamere, hanno posto dei cartelli con scritto appunto area videosorvegliata, proprio per chiedere da una parte all'amministrazione un impegno rispetto alla pulizia delle strade e allo svuotamento dei cassonetti, ma anche dall'altra parte un impegno a tutti i cittadini affinché siano più civili nelle loro attività quotidiane rispetto all'eliminazione dei propri rifiuti. Ho appena chiesto un intervento urgente ai dirigenti della RAP che mi hanno assicurato che interverranno tempestivamente, ma intanto il fai da te a Palermo ancora funziona.